Gli applausi per i Vigili del Fuoco e per la Dama, la campionessa parolimpica Paola Protopappa hanno scandito i passi del corteo storico della Bolla che partendo da Palazzo Fibioni, sede del Comune, ha attraversato le vie del centro ancora ferito per arrivare alla Basilica di Colle Maggio. I canti delle corali, lo spettacolo sempre gradito degli sbandieratori dell'Aquila, ospiti speciali bandierei di Firenze molto applauditi. I comuni hanno sfilato con i quarti della città, Dama della Croce e Giovin Signore, poi la Dama della Bolla, scortata dai carabinieri in alta uniforme dal sindaco Biondi. Per il governo presenta il sottosegretario Gianluca Vacca, vicino alla Dama anche gli atleti speciali della Special Olympics, come Paolo, per lui una grande emozione. Paolo, il grande onore quest'anno di essere vicino alla Bolla, sei emozionato? Sì, è moltoissimo. È un grande onore però partecipare? Sì, è un grande onore per il padre. Sei contento? Sono contento. Un corteo ordinato, pieno di bambini che hanno raccolto gli applausi delle ali di gente attraverso le quali il corteo è passato in città. La più piccola figurante ha solo 20 giorni. Anna Chiara è la più giovane partecipante al corteo che con tutta la famiglia partecipa. Un'emozione particolare quest'anno, si rientra in Basilica con questa nuova annata che è una benedizione per l'Aquila. Sì, è vero, è un'emozione particolare, immensa, pensavamo di non farcela, invece lei oggi è particolarmente buona, quindi si vede che da buona aquilana vuole assolutamente sfilare per la prima volta anche lei, per Celestino V, per l'Aquila e per tutto. Dopo dieci anni la Basilica di Collemaggio è fruibile per intero, una grande emozione per i pellegrini. La perdonanza che precede quella del decennale ritrova l'Aquila in una giornata di sole e con questo cielo azzurro in tutto il suo splendore, posso dirlo, perché rientrando nel centro storico mi è venuto spontaneo di dire ma questo Corso Federico è più bello di prima. La perdonanza è andata anche su reti televisive nazionali, quindi è una promozione importante che si sta facendo anche da quel punto di vista. Sì, una promozione importantissima perché si è vista per la prima volta dopo tantissimi anni la gente tornare all'Aquila, vedere l'Aquila e la gente dell'Aquila soprattutto è tornata a sperare, quindi c'è questa speranza, questa voglia di rifarsi, questa voglia praticamente di ricominciare. Questa è la grande fortuna e la grande forza di questa perdonanza.